Siamo in piena estate, Presidente, per quanto riguarda il Parco Nazionale della Maiella, come sta andando a livello di presenze e di turismo? Il Parco Nazionale della Maiella sta vivendo questo momento con grande attenzione, con grandi impegni, tutte le forze che abbiamo disponibili, dallo staff del parco, ai carabinieri forestali, a tutti gli operatori e le cooperative che lavorano per assistere i turisti, le amministrazioni comunali e così via. E per fortuna le cose stanno andando molto bene, c'è un grande afflusso, probabilmente non abbiamo ancora dati, ma probabilmente ancora maggiore di quello che ci fu l'anno passato dopo il lockdown. Tutto avviene in sicurezza, per fortuna non abbiamo incidenti, almeno fino a questo punto. Siamo riusciti a domare un paio di incendi che erano molto preoccupanti, ma che sono stati in qualche modo messi sotto controllo e che non hanno più dato manifestazione. Insomma, una situazione abbastanza felice, con molti eventi che si stanno verificando sul territorio, che ovviamente servono anche a fornire un ulteriore servizio a chi si avvicina ai nostri ambienti, in cui c'è un forte legame tra natura, permanenze storiche e, diciamo, dinamismo della popolazione che c'è. Quindi, insomma, è un'offerta molto interessante che, mi pare, venga recepita molto positivamente da persone che vengono anche da molto lontano. Quest'anno abbiamo un'ulteriore caratterizzazione che ci è venuta dalla dichiarazione UNESCO come Geoparco. La conseguenza di questo è stata sicuramente di aver acceso un faro su un aspetto meno conosciuto della montagna, ma che è molto profondamente legato con tutte le manifestazioni e soprattutto con la presenza dell'uomo da sempre. Questo ci sta portando una domanda di visita che è nuova e che viene anche dall'estero, diciamo, è sempre venuta un po' dall'estero, ma in questo momento si sta avviando a caratterizzarsi. Quindi io immagino che questa cosa, come sempre succede con le dichiarazioni UNESCO di patrimonio dell'umanità, produrrà dei benefici economici nelle nostre località frequentate.